RENDICI CONSAPEVOLI DELL'AMORE Cerchio Medianico K attraverso Marco a cura di VB, sorella mistica. O Signore, fa che ogni giorno in questa cerchia e in tutti coloro che sperano in un mondo più bello sia presente la mia benedizione, sia presente questo mio augurio di essere consapevoli di se stessi questo mio anelito verso di loro. Siano dunque più coscienti di ciò che rappresentano in quel quadro meraviglioso che è l'esistente. E perché, fratello, pensi che la vita sia inutile? Perché pensi che sia giusto morire? Perché ti senti insoddisfatto? Ma prova a guardare intorno a te, prova a vedere ciò che ti circonda, prova a sentire ciò che è intorno a te, vibra con te e per te, per la tua esistenza e con la tua esistenza. Tutto è perché tu sei e se tu non fossi ciò che è intorno a te non esisterebbe. Quando tu riuscirai a sentire vivo intorno a te tutto questo, quando riuscirai a sentire intorno a te gli altri fratelli come una parte di te stesso, allora tu sarai libero e allora non desidererai più morire, ma tu stesso sarai vita per te e per tutti. Quel giorno, Signore, tu che sempre esaudisci le preghiere di chiunque ti viva, rendici consapevoli dell'amore. Continua. Grazie. 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 Grazie.